Le dosi da spacciare le preparava nella sua cantina dove nascondeva tutto l'occorrente per il confezionamento degli stupefacenti. Poi raggiungeva i giardini pubblici dove vendeva tranquillamente qualunque tipo di droga davanti a passanti, famiglie e bambini. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del comando provinciale di Bari che nel corso di un blitz eseguito nel quartiere San Paolo hanno messo le manettie ai polsi di un giovane pusher già noto alle forze dell'ordine. I militari sono arrivati a lui dopo aver notato in diverse occasioni uno strano biavai di adolescenti all'interno del parco pubblico del rione barese. Qui in base a quanto scoperto dopo una serie di appostamenti il ragazzo svolgeva indisturbato la sua attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con il sequestro di quasi un chilo di droga, la maggior parte occultata, nella cantina di pertinenza dell'abitazione del giovane trasformata in un laboratorio degli stupefacenti. All'interno del locale sono state rinvenute infatti circa 200 dosi e 27 ovuli di sostanze di diverso genere come hashish, marijuana, ketamine ed ecstasy, oltre a tre buste contenenti 350 grammi, sempre di marijuana, e circa 200 euro in contanti, la somma accumulata dal pusher dopo un paio d'ore di spaccio. Scattato l'arresto in flagranza, il giovane è finito ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.